50 più, terziario donna, SM e Uformula, che sono le tre associazioni afferenti a Confcommercio, hanno organizzato oggi in questa straordinaria location, che è Villa Matarazzo, nel comune di Gradara, un convegno importantissimo sugli aspetti salutistici legati alla medicina personalizzata. Siamo quasi 8 miliardi di persone al mondo, la medicina si pone delle frontiere totalmente innovative per entrare nel dettaglio di ciascuno di noi e individuare i percorsi di prevenzione e poi di cura migliori. Il convegno di oggi si inserisce in un contesto lungo anni, organizzato da queste tre strutture, per entrare nel merito della medicina, per studiare le nuove frontiere di un qualcosa che è davvero mirato a farci stare meglio tutti quanti negli anni. Andranno distinti dei concetti fondamentali, c'è la medicina personalizzata da una parte, c'è la medicina di precisione dall'altra, concetti che spesso vengono confusi, quasi si trattasse di sinonimi, in realtà non è così. La medicina di precisione analizza quelli che sono i bersagli molecolari all'interno delle cellule che ci consentono di andare ad individuare con precisione gli interventi terapeutici che possono essere validi per questa persona o per quell'altra. La medicina personalizzata invece è un ambito un po' più ampio, nel senso che si occupa del paziente come persona, laddove la persona è quella che può reagire alla patologia in una certa maniera piuttosto che un'altra per situazioni sue, sociali, per situazioni caratteriali, addirittura per situazioni economiche. Cioè sono dinamiche particolari, ampie, decisamente più ampie rispetto a quelle che possono essere rilevabili soltanto con l'analisi genomi. C'è un risparmio notevole in termini di spesa di salute quando la prevenzione è personalizzata. Inoltre la promozione della salute, c'è uno studio statunitense, una revisione di 72 studi, un dollaro speso di promozione della salute ne fa acquisire 4. Quindi noi dobbiamo puntare sulla prevenzione che è anche primaria, secondaria e terziaria, cioè nel malato, nel soggetto che è inizialmente malato e nel sano, quindi sempre. E questo tipo di convegni sono importanti perché danno una sensibilizzazione ai medici, alle professioni sanitarie, ma anche ai pazienti che sanno che possono inserirsi all'interno di un percorso che sia multidisciplinare ma anche interdisciplinare, per la prima volta appunto personalizzato. Quindi qual è stato il nostro impegno? È stato quello di mettere al centro del nostro progetto, della nostra idea, la persona che doveva usufruire degli trattamenti estetici. Abbiamo quindi ideato un macchinario che andrà a lavorare nell'estetica in determinate situazioni di età. Quindi parliamo del periodo menopausa ed andropausa. Quindi focalizziamo questo tipo di trattamento non solo nel periodo, ma addirittura siamo andati oltre quella che viene definita la personalization. Siamo arrivati alla customization. La medicina personalizzata credo che sia veramente un qualcosa da strutturare e da divulgare. Ecco perché siamo qui coinvolti oggi come associazione, ma anche come imprenditori. Perché poi abbiamo un focus comune, mi verrebbe da dire, quello di valorizzare la persona, quindi di mettere la persona al centro e quindi di conseguenza il paziente al centro. La medicina personalizzata credo che sia veramente un approccio unico nel suo genere. Finalmente appunto si mette, si valorizzano le persone in base proprio al proprio patrimonio genomico e alle proprie esperienze di vita. La 50 e più si pregia di offrire loro non solo dei servizi in campo fiscale o servizi di tecnici, ma noi ci vogliamo anche proporre come rappresentanti e organizzazioni che tutela l'ultracinquantenne. Ecco sotto questo aspetto, proprio per questo motivo, per tutelarlo, organizziamo sia a livello territoriale che a livello nazionale, diversi tipi di iniziative che hanno uno scopo ludico, ma ricreativo, ma anche culturale e formativo. Ecco in questo percorso 50 e più da tanti anni organizzano questi convegni a cui si faceva riferimento prima. Convegni che sono di tematiche mediche e relative al benessere delle persone. Con questi convegni cerchiamo sempre di essere innovative, anche perché Terziario Donna, come già ben sapete, sono anni che si occupa anche di arte, di cultura, di corsi di formazione, per cui le nostre imprenditrici sono preparatissime. E tutto quello che portiamo all'interno, poi ci piace portarlo anche all'esterno, verso la cittadinanza, un pubblico, perché stare nel contesto sociale della nostra provincia per noi è molto importante.